Bisogna riflettere sul rapporto tra uomo e donna e anche questa è la mission dell'Associazione Ananche che con il progetto Sfera, spazi femminili recuperati, adesso ha un luogo dove organizzare incontri, dibattiti e altre iniziative per sensibilizzare riguardo la violenza di genere. Pescara non ho mai avuto un luogo dedicato esclusivamente alle donne, noi cerchiamo di realizzarlo perché è patrimonio della nostra mission associativa anche se effettivamente questo spazio è aperto a tutto il pubblico, noi non vogliamo dare l'esclusiva della presenza femminile è uno spazio anche per gli uomini perché i temi di cui vogliamo dibattere sono anche maschili soprattutto anche maschili perché vorremmo riflettere sulle radici della violenza che sono radici culturali, sulle questioni delle relazioni uomo-donna. Ma non solo, le donne che subiscono violenza, spesso rinchiuse nelle mura domestiche, qui potranno trovare aiuto anche riguardo la ricerca di un impiego così da diventare autonome. Il progetto è finanziato dal bando periferie del Consiglio dei Ministri e lo spazio è stato aperto in collaborazione col Comune di Pescara. Il Comune di Pescara è presente sul tema, lo è per l'appunto 365 giorni all'anno e oggi lo dimostriamo con questo progetto della durata di 10 anni, parliamo di fondi e risorse importanti, con il quale noi andremo a aprire questa struttura dove le linee di azione non saranno soltanto la prevenzione. Si trova nel quartiere di Rancitelli, seppur la violenza non fa di certo distinzione di cetosociale. Già dalla settimana prossima sarà comunicato il calendario giornaliero degli eventi adeguati alle restrizioni causa pandemia. Nel cuore di Rancitelli, uno per dare anche fermento alla zona, perché vogliamo che questa zona sia, questo plesso scolastico diventi un po' pieno di iniziative anche interculturali, e poi per dare una dimostrazione che il Comune si sposta da Piazza Italia e va anche in periferia. Che sia questo il primo passo a Pescara di una rivoluzione culturale che finalmente possa farci scrollare di dosso quei retaggi patriarcali e sessisti ancora ingombranti nella nostra società. La matrice culturale, la matrice legata agli stereotipi e ai modelli culturali che noi ci portiamo dietro. Altrimenti non si spiegherebbero tutte queste violenze all'interno delle famiglie, non si spiegherebbe il fatto che le donne che vengono anche hanno un ceto medio-alto. Quindi comunque la violenza colpisce trasversalmente, ma soprattutto effettivamente non è che colpisce la fascia più povera della popolazione, anzi. Grazie.